Allora, andiamo a fare un po' di esercizi che mi sono stati segnalati e che, quindi questo discorso lo interrompiamo momentaneamente, andiamo a fare qualche esercizio, allora il primo esercizio, è stato richiesto di fare questo limite, limite per x che tende a zero di 2 alla x più 1 mezzi, tutto elevato alla 1x, ok? Allora, questo esercizio mi dà la possibilità di illustrare che si tratta di una forma indeterminata, perché noi abbiamo fatto la forma indeterminata di prodotti, di rapporti, ma non della potenza. Allora, qui x tende a zero, quindi 2 alla zero fa 1, 1 più 1 fa 2, la base tende a 1, ma 1 su x tende a più o meno infinito, ok? Più infinito se x tende a zero da destra e meno infinito se x tende a zero da spazio. Si tratta di una forma indeterminata, perché 1 alla infinito è una forma indeterminata. Allora, perché? Dovete tenere presente questa identità qui. Io ho a elevato a b, a è un numero maggiore di zero. Questo qui, se vi ricordate l'abbiamo già scritto, questa identità, è e l'esponenziale di b per il logaritmo naturale. Ritorna? Perché questo è, se io ho questa funzione, a elevato a b è un numero positivo, quindi se ne può fare il logaritmo, allora quando faccio prima il logaritmo di un numero positivo e poi ne rifaccio l'esponenziale, torno al numero di b. Ma il logaritmo di a alla b è b per il logaritmo di a per le proprietà delle potenze. E quindi poi rifacendo l'esponenziale, viene l'esponenziale di b. Quindi voi vedete un attimo che, se a tende a 1, questo logaritmo tenderà a 0. Se b tende a infinito, che cosa avete? Una forma indeterminata del prodotto del tipo 0 per infinito. Dovete sciogliere questa forma indeterminata, dopo di che, se questo per esempio, il prodotto tendesse a 3, quello tenderà a l'esponenziale di b. Perché l'esponenziale di b è 0. Quindi, io posso cioè scrivere che 2 alla x più 1 mezzi alla 1 su x non è altro che l'esponenziale di 1 su x per il logaritmo naturale è di 2 alla x più 1 mezzi alla x. Ok? Ok? Allora, però, c'è un problema adesso. Adesso vedete che questo tenderà a più o meno infinito, la seconda destra e la sinistra, e questo non so che cosa fa. so che tende a 0, perché questo tendeva a 1, logaritmo di una cosa che tende a 1 tende a 0, quando x tenderà a 0. Però, vorrei saperlo sviluppare. Allora, come posso scrivere? Allora, per x che tende a 0, logaritmo di 2 alla x più 1 mezzi, come lo posso scrivere? Allora, posso fare così. posso, per esempio, scrivere allora, la cosa importante da sviluppare è 2 alla x. 2 alla x, chi è? È l'esponenziale di x per logaritmo di 1, di il stessimo dividimento. Quindi, questo chi è? è 1 più x logaritmo di 2. Ricordatevi che x tende a 0. Più o piccolo di x. Allora, se x tende a 0, x logaritmo di 2 tende a 0. Cosa sto applicando? Sto applicando la formula di Meclano dell'esponenziale, l'abbiamo fatta prima. 1 più la quantità che tende a 0 più qualcosa di ordine superiore a questo. Ma questa è una costante, è una costante per x all'ordine di x. La costante è diversa da 0. Quindi, ordine superiore a questo, signifio o piccolo di x. Andiamo a sostituire. Quindi qua mi viene logaritmo di 1, 1 più 1 fa 2, più x logaritmo di 2 più o piccolo di x mezzi. Uguale. Uguale, continuo qua, anzi, lo restivo qua, logaritmo di 2 alla x più 1, mezzi. Uguale. Logaritmo, adesso, 2 fratto 2 fa 1, più x mezzi logaritmo di 2, più o piccolo di x. Più piccolo di x fratto 2 fa un piccolo di x. Ora, adesso ci serve un altro sviluppo che non abbiamo ancora fatto, lo sviluppo di Meclami del logaritmo di 1 più t. Lo sviluppo di Meclami del logaritmo di 1 più t è t, per t che tende a 0. cioè, questo, lo vedete di 1 più questo è uguale, ci togliete l'u è uguale a su 4. Veramente sarebbe, t più qualcosa di ordine superiore a questo, ma questo è di ordine 1, qualcosa di ordine superiore a 1 finisce qua dentro. andiamo a sostituire, andiamo a vedere che succede. Quindi questo è uguale, è uguale all'esponenziale di 1 su x per x logaritmo 2 mezzi più O piccolo di x. Ok? Quindi, adesso dividiamo tutto per x, mi rimane l'esponenziale, x e 1 su x semplifica, viene logaritmo 2 mezzi, più O piccolo di x. O piccolo di x fratto x rimane qui di tesi. Allora, vedete che l'argomento adesso, per x che tende a 0, tende a logaritmo di 2 mezzi. Siccome l'esponenziale è una funzione continua, questa funzione qui, per x che tende a 0, tende all'esponenziale del logaritmo di 2 mezzi. Cioè, ha l'esponenziale del logaritmo di 2 alla 1 mezzi. Chi è? La radice quadratica. Quindi, questo è il limite. Ora, qualcuno vi dice, no, no, vabbè, ma io ho visto sul libro, là c'era un trucchetto, si faceva in 2 righe e qua ci sono volute 6 righe. Per fare la stessa cosa. O questo, smontare, tutti i link. Tutti no, ma insomma, molti di più di qualunque artificio, poi degli artifici devi ricordare 50.000. A, oltretutto, uno potrebbe obiettare, vabbè, ma qua perdo il controllo, l'artificio l'ho capito, là lo capisco, lo so controllare, qua perdo il controllo, che significano tutti questi scriviti. No, qua ce l'hai il controllo, cioè, ogni volta che io scrivo una di queste eguaglianze, tu la puoi controllare. Siamo vicini a 0. Allora, quando io scrivo che 2 alla x è 1 più x logaritmo 2, più termini di ordine superiore, tu ci metti un millesimo, ti fai 2 alla un millesimo con la calcolatrice, ti fai 1 più x logaritmo 2 con la calcolatrice, e vedrai che l'ordine, diciamo, l'errore, sarà molto più piccolo di un millesimo, perché sarà di ordine superiore, chiaro? Cioè, se tu hai dei dubbi, su questa identità, tu ti fai due conti con la calcolatrice e la puoi controllare, vicino a 0. Ci devi mettere, come si fa? Se stai vicino a 0, ci devi mettere un numero vicino a 0, ma non troppo. Cioè, per esempio, 10 alla meno 3. Perché ci devi mettere un numero di questo genere? Deve essere non troppo piccolo, perché, altrimenti, se ci metti 10 alla meno 9, già questo non c'ha senti. Cioè, con la calcolatrice rischi di perdita. Se invece ci metti 10 alla meno 3, quel pezzo si vede con la calcolatrice. Allora, facciamo un esempio. 2 alla un millesimo, logaritmo 2 è 0,7. Un millesimo per 0,7 fa 0,0007, quindi 1 più quello farà. 2 alla unesimo deve cominciare con 1, esempio, 2 alla 1 su 1000, deve fare 1,0007 e poi a 3. 2 alla unesimo per 0,7. si prende la calcolatrice e faccio 2 alla, dove sta l'elevamento a potenza, 2 alla, eccolo qua, è 1,000, 3,0, 6,9, 3,3,8,6. Torna? E torna sì, perché il logaritmo di 2 non era esattamente a parte che era già un po' più piccolo. Ma comunque, poi, la piccola differenza che c'è è dovuta a una correzione del secondo, del secondo. Chiaro? Quindi, tu c'hai dei dubbi su questa e te li chiarisci, c'hai dei dubbi su quest'altra e te li chiarisci. Non puoi controllare, ci vuole un po' di tempo, ma soprattutto, piano piano, entri in un modo di ragionare che è diverso, che però è più preciso. una volta che tu lo applichi il limite si smonda tranquillamente. Ok? Lo posso fare pure con l'attivicio, ma non c'ha senso. Non c'ha senso perché questo metodo, una volta che l'avete imparato, è superiore. Quindi è come dire, uno, ne so, ha imparato una tecnica calcistica superiore e poi torna indietro a farla in un altro modo. No. Ok? Questo era il primo esercizio. Andiamo a fare il secondo. Qua, naturalmente, posso fare dei cambiamenti di variabile, no? Potrei fare dei cambiamenti di variabile, quindi ridurre il limite a dei limiti notevoli già studiati. Quelli sarebbero, diciamo, gli artifici più praticabili. Però, in questo modo, non ho bisogno di fare nulla. Ho bisogno, semplicemente, poi, d'altro canto, questo tipo di ragionamento, questo tipo di metodo, lo faremo, lo svilupperemo, tante di quelle volte, che diventerà una delle cose, che dovreste sapere meglio. Andiamo a fare questo limite qua. Limite, per n che tende a più infinito, di n fratto la radice ennesima, di n fattoriale. ok. Allora, questo qua, sul limite qua, vai, Allora, per vedere che fa E, per vedere che fa E, allora, come si può fare? Andiamo, a fare, a fare, allora, Allora, proviamo. A. Insomma, che faccia E vi dico intanto perché lo so, perché N fattoriale è circa, questo l'avevamo però già visto, che era N alla N per E alla meno N, e qua poi c'erano dei, vabbè, poi c'è un fattore che si chiama radice di un pi greco N, poi qua c'è 1 più 1 più 2CN, quindi questo lo so perché non lo ricordo. Allora, se non mi sbaglio, che la radice ennesima, allora, vediamo un po', se io vado a fare 1, Allora, proviamo. Volevo applicare il dinamico di cesare. Per quale motivo? Io cosa so? So che 1 più 1 su N alla N, questo l'abbiamo dimostrato, tende a E. Quindi, ma questo qua, non è altro che N più 1 su N elevato alla N. Allora, se io però vado a fare N fattoriale fratto N alla N. Allora, proviamo a prendere questa qua, chiamiamola B con N. Andiamo a fare B con N più 1. A B con N più 1, a N più 1 fattoriale fratto N più 1 alla N più 1. Allora, cosa posso dire? Se quando vado a calcolare B con N più 1 fratto B con N, mi viene, questo lo devo girare e devo fare la moltiplicazione. N più 1 fattoriale fratto N fattoriale fa N più 1. Sotto mi viene, sotto mi viene N più 1 alla N più 1 e sopra c'è N alla N. Quindi qua mi viene un N più 1, se semplifica mi rimane N su N più 1 alla N. Questo è il reciproco di questo, quindi se poi lo tendeva E, questo tende a 1 su E. Ok? Allora, cosa ci dice Cesaro che se i B con N sono tutti positivi? Ok? Poi sappiamo che B con N più 1 fratto B con N tende a 1 su E. Allora, cosa sappiamo? Io dico che per il secondo teorema di Cesaro, la radice ennesima di B con N tende a 1 su E. Questo perché, se vi ricordate, qua cosa devo fare? Devo fare la radice ennesima di B con 1 per B con 2 su B con 1 per B con 3 su B con 2 per B con N su B con N più, B con N meno 1. Ok? Il primo termine lo vedo con B con 0 lo chiamo 1, è come se fosse B con 1 su 1. Allora, se vi ricordate, se una successione converge a L, in questo caso L è 1 su E, allora, la radice ennesima del prodotto è ovviamente la successione, posto che la successione è sempre positiva, converge a L è il secondo teorema di B con 2 su B. Allora, qua, si semplificano tutti quanti, rimane solo B con N, la radice ennesima di B con N tende a 1 su E. Quindi posso dire che la radice ennesima di N fattoriale fratto N tende a 1 su E, ma questo è, perciò dicevo che invece di dimostrare questo, ho dimostrato che il reciproco tende a 1 su E, che è la stessa cosa. Mi sa che questa dimostrazione l'avevamo già fatta. Quindi questo secondo limite è facile, però in realtà, sì, sono quasi certi di averla già fatta, perché poi abbiamo approfittato per dire che con un po' più di fatica si può, diciamo, quella là ti dice sostanzialmente che N fattoriale è circa uguale a N alla N per E alla meno N. Le correzioni però a moltiplicare non tendono a 1, perché è la radice ennesima di N fattoriale su N, sulla radice ennesima di N alla N che tende a 1 su E. Quindi qua c'è la radice ennesima di questo deve tendere a 1, ma la radice ennesima di una quantità può tendere a 1 anche se per la quantità, come in questo caso, è da più infinito. Quindi in realtà, per ottenere questa che si chiama la formula di Stirling, bisogna faticare un po' di più. Non è, diciamo, un esercizio che richiede più tempo. Quindi, in realtà però, lo sviluppo più accurato è questo qua. N fattoriale è circa N alla N per E alla meno N, per radice 2π N, qui mi pare che c'è 1 su 288 N quadro, ma non ne so. Ok. Perché da questa si ritorna a questa? Fate la radice ennesima. Allora, come si fa la radice ennesima? La radice ennesima di un prodotto. Questo tende a 1, la radice ennesima tende a 1. Questo è radice di N per una costante, la radice ennesima di questo pure tende a 1. Se vi ricordate, questo l'abbiamo dimostrato, abbiamo dimostrato già che è la radice ennesima di N. Quindi la radice ennesima di N tende ancora meglio a 1. Questo tende a N e questo tende a 1 sui. Quando lo mettete... Questo vale N e non tende a N. E questo vale 1 sui. Quando lo mettete al denominatore, N su N se ne va, 1 su 1 sui diventa 1. È chiaro? Quindi questo è il limite che veniva richiesto. Altro esercizio. Questo è invece facile. È un esercizio banale sui complessi. Era... Z quadro uguale i mezzi. Z uguale più o meno più i mezzi. Questa è la soluzione. Questa è l'estrazione di radici quadrati. Allora, modulo di Z quadro fa un mezzo. Quindi modulo Z deve fare radica 2. L'argomento di Z quadro fa pi greco mezzi. Quindi l'argomento di Z deve fare pi greco quarti più k pi greco. Sarebbe pi greco quarti più 2k pi greco diviso 2. Diviso 2. 2 e 2 se ne va. quindi praticamente o è pi greco quarti o è 5 pi greco quarti. O è 45 gradi o è 45 gradi più pi greco. Allora, quando andiamo a scrivere Z Z che è il modulo cioè radica 2 a pi greco quarti chi ci sta coseno di pi greco quarti più i seno di pi greco quarti. Questo è radica 2 per radica 2 su 2 più di 8 radica 2 su 2 moltiplicate e ottenete scusate qua era un mezzo 1 su radica 2 qua è 1 su radica 2 1 su radica 2 e ottenete la prima radice che è 1 più di mezzo. La seconda radice quando aggiungete pi greco cosa succede? Seno e coseno cambiano segno quindi la seconda radice radice è l'opposta della prima quindi tutto è banale questo è un esercizio molto semplice. Infine andiamo a calcolare il limite andiamo a calcolare il limite per x che tende a 0 di 1 su tangente di x meno 1 su x meno 1 su x e quindi la seconda radica è un'esercizio di x e quindi la seconda radica è un'esercizio di x e quindi la seconda radica è un'esercizio sempre del limite di x e quindi la seconda radica è un'esercizio quindi è effettivamente una forma di del limite e quindi la seconda radica è un'esercizio allora direttiamo sopra per esempio sopra è 1 meno x quadro mezzi più o piccolo di x cubo sotto c'è x meno x cubo sesti più o piccolo x alla quattro ora quando io dico sviluppo stiamo parlando di sviluppo di McLaren x tende a 0 e infatti qua x tende a 0 quindi sono cose dite se x tende a 1 tutto questo che sto dicendo non aveva senso ok dopo di che allora uno dice ma io come faccio per controllare quando allora questo andava a infinito mettiamo x andava a 0 da destra questo va a infinito e allora forse hai fatto bene se non va a infinito hai sicuramente fatto male cioè quando si fanno queste sostituzioni il comportamento della funzione prima e dopo deve essere lo stesso io sto sostituendo sto sviluppando sto scrivendo in un altro modo la stessa cosa non è che faccio i trucchi con il cappello al cilindro prima tendeva a 5 un po' tende a 7 no quindi adesso come si fa uguale uguale allora come si fa perché questo è uno sviluppo anomalo perché va a più infinito si fa come si fa sempre cioè si mette in evidenza la quantità più grande sopra non devo mettere in evidenza niente perché la quantità più grande è 1 sotto devo mettere in evidenza la x perché x è infinitesimo ma x cubo di più quindi di qua mi viene 1 meno x quadro sesto più o piccolo di x qua x al punto perché ho messo in evidenza la x uguale 1 su x mi rimane in evidenza adesso qui c'è 1 meno x quadro mezzi fratto 1 meno x quadro sesto allora qua si vedrà che questo è 1 meno x quadro mezzi più o piccolo di x per 1 più x quadro sesti più o piccolo di x quadro cioè se vi ricordate 1 fratto 1 meno t faceva 1 più t il termine successivo era t quadro quindi 1 più t più il termine successivo è di ordine 4 quindi adesso mi faccio questa moltiplicazione continuo di qua guardate faccio la stessa moltiplicazione continuando di qua qua viene 1 meno x quadro mezzi più x quadro sesti 1 meno x quadro sesti meno x quadro mezzi poi tutti gli altri termini sono di ordine 4 quindi più o piccolo di x cioè semplifico e qua semplice è 1 su x davanti uguale 1 su x che moltiplica 1 meno x quadro terzi più o piccolo di x quadro allora se io adesso vado a riguardare queste espressioni qua c'ho 1 su x poi ho meno x terzi cioè la correzione la prima correzione è meno x terzi rispetto a 1 su x quindi io adesso posso andare a scrivere a sostituire qua dentro questo mi direi lo scrivo qua uguale limite per x che tende a 0 di che cosa? qua ci scrivo 1 su x meno x terzi più o piccolo di x quadro meno 1 su x questi tre termini ho fatto la moltiplicazione 1 su x meno x terzi più piccolo di x quadro sono lo sviluppo di questo ci tolgo 1 su x quindi questo che andava a più infinito con questo che va a più infinito o meno infinito secondo te dove vai se ne va e rimane questo a quanto tende questo? a 0 anzi noi non solo abbiamo dimostrato che tende a 0 ma abbiamo pure dimostrato come tende a 0 cioè se io ti vado a chiedere adesso il limite per x che tende a 0 di 1 su tangente di x meno 1 su x fratto x quanto fa? quanto fa? guardate sopra 0 no? non fa 0 questo fa 0 questo è 0 su 0 0 su 0 e quanto fa? basta leggere quello che sta sull'altra quanto fa? questo chi è? non è il numeratore una volta che ho fatto la differenza che mi rimane qua? meno x terzi più termini di ordine super quanto va a divider per x che mi rimane? quanto fa? meno 1 terzi ah fa meno 1 terzi quindi io ho calcolato questo limite che è meglio di quello di quell'altro quindi come vedete vabbè l'ho voluto fare un po' di potevo sviluppare di meno fare meno conti e mi bastava per fare quel limite però ecco questo è un problema con gli sviluppi fino a che ordine devi sviluppare poi ne impareremo però c'è sempre un minimo di perché tu devi fare devi determinare a priori fino a che ordine devi sviluppare se non hai sviluppato fino all'ordine giusto che cosa ti succede? succede che non riesci a sciogliere la forma in determinata allora devi tornare indietro e rifare gli sviluppi con qualche pezzo in più che è fastidioso d'altro canto se fai degli sviluppi come in questo caso più che qua non era necessario fare tutti questi sviluppi qua probabilmente potevo dire che qua era 1 più piccolo di x e qui era x meno piccolo di x4 però l'avreste capito peggio se fai degli sviluppi con più termini del necessario ti fai semplicemente dei conti più questi conti alla fine possono essere inutili rispetto a quell'obiettivo questi qui questi conti per esempio ci consentivano di calcolare questo limite che era più difficile da calcolare se questo limite non è in un terzo questo limite è chiaro? quindi questo sistema è del tutto generale ora questi limiti qua me li avete probabilmente segnalati non diciamo i limiti non l'esercizio più complesso della pace perché questi qua stavano in appendice a qualche paracargetto dove ci stava qualche artificio potete fare ok? però in realtà se li andiamo a fare con gli sviluppi si fa molto 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 meglio certamente le prime volte si prenderanno un po' di cantonati si sbatte un po' la destra contro il muro si devono aggiustare un po' di cose perché questo non funziona perché quell'altro non funziona però dopo un po' un impasto e le cose vanno meglio va bene pausa grazie